Ciao ragazzi bentornati sul canale di MCA mondo carriera allenatore io sono sempre Andre e oggi siamo qua con un nuovissimo video dei top talenti under 21 di una determinata nazionalità e come abbiamo fatto con il Belgio che siamo andati un po' a rivalutare questa nazionalità dopo l'ultimo video che abbiamo fatto sul Belgio che è passato praticamente inizio gioco quindi sono passati 6-7 mesi oggi andremo a rivalutare e a rivedere un po' la Germania perché sì ragazzi ci sono delle nuove aggiunte a parte giusto due giocatori due o tre che sicuramente c'erano già anche la scorsa volta quindi inizio FIFA e che diciamo sono delle certezze ma se ne sono aggiunti ragazzi tantissimi sono qua con la Germania appunto perché secondo me è quella in cui ci sono aggiunti tanti giocatori nuovi interessanti un po' come in Italia ma iniziamo subito senza perdere tempo perché ce ne sono un po' da vedere e il primo è Kai Havertz diciamo che partiamo da quelli un po' più conosciuti per arrivare poi diciamo a quelli meno conosciuti e infatti i primi tre diciamo che saranno abbastanza conosciuti comunque Havertz ormai lo conosciamo 91 di potenziale giocatore molto molto interessante sapete anche di cosa penso di questo giocatore che secondo me non è proprio il massimo però direi di passare un po' avanti perché c'è qualcosa di molto più interessante dopo come Florian Wirz lui c'era già ragazzi un giocatore che era già presente all'interno dei migliori giocatori tedeschi giovani sappiamo abbiamo già detto che lui sta facendo un po' lo stesso percorso di Havertz quando era a Leverkusen stesso ruolo più o meno stesse caratteristiche anche se Wirz è un po' più bassettino un po' più leggero e magari leggermente un po' più rapido anche se sappiamo che Havertz è molto agile e molto bravo con i piedi Wirz 89 di potenziale giocatore che comunque ha ricevuto un bel po' di upgrade come il ragazzotto che andremo a vedere adesso sta andando veloce ragazzi perché questi li conosciamo ovvero Musiala ecco Jamal Musiala ragazzi è il terzo diciamo e ultimo tra quelli un po' più conosciuti anzi forse c'è un altro però Musiala sicuramente è il ragazzo che è esploso quest'anno diciamo che insieme a Zolis è il ragazzo che ha ottenuto più upgrade di quest'anno tra i giovani ragazzi veramente lui bastoni Zolis insomma non sono tanti quelli che hanno ricevuto tanti upgrade e sicuramente Jamal Musiala lo è su di lui vorrei spendere qualche parolina in più perché secondo me è il giovane del Bayern Monaco di quest'anno ragazzi perché è veramente un giocatore molto interessante è ragazzi un 17enne che ha scelto sappiamo la nazionalità tedesca lui era inglese a inizio FIFA quindi fino a pochi mesi fa era inglese ha scelto la nazionalità tedesca e direi che la Germania appunto ne ha tratto veramente tantissimo vantaggio è un giocatore molto molto interessante che è tutto da scoprire e non vedo l'ora di scoprirlo comunque un giocatore che ora ha 87 di potenziale da 74 di overall veramente un fenomeno mi ricordo penso sia all'inizio aveva 66 tipo di overall l'ora aveva 74 cioè veramente è cresciuto tantissimo però per quello che ha fatto se lo merita tutto Bright AQ a Rambi ragazzi qua iniziamo con i giocatori un po' meno conosciuti e sicuramente lui diciamo che magari qualcuno di voi lo conosce però secondo me iniziamo con quelli poco conosciuti infatti questo giocatore difensore centrale o terzino sinistro del Bayern Monaco 2 diciamo che comunque il Bayern Monaco sappiamo essere veramente un'ottima società ormai è un giocatore con 62 di overall di base con 85 di potenziale cresce tantissimo 3 di piede debole mancino un milione e due di valore 500 come stipendio settimanale un 87 per 76 chili con 72 velocità scatto 67 accelerazione forza 72 una buona agilità 68 deve migliorare un po' questo 58 di lettura difensiva che in realtà per il 62 di overall ci può anche stare però secondo me può essere migliorato sicuramente a Rai in B è veramente un giocatore molto molto interessante forte fisicamente bravo tecnicamente come vedete dalle statistiche sicuramente un po' da migliorare ma c'è margine di miglioramento molto molto interessante e poi può fare già due ruoli di base quindi tanto di cappello Armel Bella Kochap ragazzi credo di averle detto giusto e qua bisognerebbe sentire Giano comunque il difensore centrale del Bocum 18enne 1,90 con 5 di piede debole mamma mia fenomenale 68 di overall anche lui con 85 di potenziale 2 milioni e 9 di valore 2 mila come stipendio settimanale guardate qua ragazzi 73 accelerazione 78 velocità scatto forza 85 lettura difensiva 68 già come il suo overall 71 di contrasto in piedi questo ragazzo mamma mia provate ragazzi cioè guardate qua 1,90 per 87 kg con è vero 50 di genitore in un difensore può essere pochino però 73 accelerazione 78 velocità scatto poi intercettazioni 71 questo ragazzo credo che non tutti lo conosceranno ma secondo me è una bomba raga è una chicca super ADM invece Karim già lo conoscono sicuramente tanti tanti di più l'abbiamo visto anche in qualche altra top un giocatore con 4 di abilità un attaccante 18enne 70 di overall 85 di potenziale 1,80 di altezza 73 kg di peso quasi 4 milioni di valore 6.400 come stipendio settimanale giocatore velocissimo 89 accelerazioni 88 minuti a scatto 87 agilità tiro perfetto finalizzazione già come il suo ovvero quindi viaggia e in più classe dribbatore veloce e palonetto come caratteristiche speciali sicuramente Karim Adeyemi è uno di quei giovani che tutti hanno provato almeno una volta nella vita o comunque almeno una volta su questo FIFA nella carriera perché è impossibile non provare questo giocatore veramente conosciutissimo fortissimo velocissimo agilissimo tecnicissimo e poi costa veramente pochissimo diciamo tutti superlativi però ragazzi purtroppo questo è purtroppo anzi per fortuna Malik Tio questo ragazzo è un altro 18enne che forse non tutti conoscono altro difensore centrale o terzino quindi tanti nuovi giovani difensori centrali o terzini anche lui 1.91 80 kg come bella cocia praticamente ma anche lui con 5 di piede debole non so cosa stiano facendo le cantero comunque le primavere le scuole calcio in Germania ma stanno avendo fuori difensori centrali veramente fortissimi tecnicamente 66 di overall 84 di potenziale 2 milioni di valore 2.000 come stipendio settimanale e lo Schalke ci ha piazzato una clausola di 4.650.000 euro diciamo 5 milioni di euro anche lui non è molto veloce anche se ha dei buonissimi margini di miglioramento anche in velocità però ragazzi è comunque alto 1.91 quindi non potete aspettarvi che questo vi faccia i 100 metri in 20 secondi anzi in 10 secondi comunque forza 74 sicuramente questi sono i suoi valori 63 elettore difensivo è ottimo precisione di testa 72 questo ragazzo affiancato a un difensore centrale un po' più veloce un po' più agile fidatevi che vi può fare veramente la differenza perché avere un difensore magari un po' più piccolettino più agile più veloce e uno di questa stazza di questa potenza fisica è sicuramente il binome migliore poi tecnicamente deve migliorare anche se comunque 62 passaggio corto e 57 passaggio lungo di base è veramente molto molto interessante è buonissimo Paul Nebel altro giocatore che non c'era all'inizio del gioco diciamo così quando abbiamo visto la prima volta la top dei migliori tedeschi lui è un esterno destro esterno sinistro COC 17enne del Mainz lui è bassettino 1,69 per 66 kg è mancino ma con 4 di piede debole giocatore veramente tanto offensivo livello di attacco alto 64 di overall con addirittura 84 di potenziale quindi 20 punti crescita per questo ragazzotto 1,6 milioni di valore 800 come stipendio settimanale e anche qua il Mainz le ha piazzato una clausola da 4 milioni e 500 mila euro però ragazzi 90 agilità di base a 64 di overall 78 accelerazione 74 velocità scatto tiro dalla distanza e finalizzazione insomma queste cose qua sono tutte a migliorare però è un 17enne quindi facciamogliela passare e l'ultimo di questa top è Angelo Stiller su di lui abbiamo anche riservato un bellissimo post dedicato sulla nostra pagina Instagram perché è veramente un giocatore super interessante del Bayern Monaco 2 un giocatore che può fare il mediano o la mezzala 19 anni mancino 67 di overall con 84 di potenziale anche lui crescono veramente tutti tantissimo è già piazzato fisicamente 1,83 per 65 kg 3 di abilità 3 di piede debole 2,5 milioni di valore 1,6 come stipendio settimanale e poi guardate qua le statistiche ragazzi perché gli abbiamo dedicato un post perché a 19 anni è già veramente un giocatore molto equilibrato è molto intelligente già ha veramente tutto in regola per fare i ruoli che può ricoprire come vedete qua ottima tecnica 74 passaggio lungo 76 passaggio corto potenza tiro 62 dribbling 65 contrasto in piedi 66 sia dal punto di vista fisico mentale tecnico e anche offensivo è veramente già molto equilibrato quindi sia come mezzala che come mediano potreste utilizzarlo indistintamente quindi ragazzi siamo arrivati alla fine anche di questo video spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante questo fatto di ritrovare e di ricercare e di rivedere le top dei migliori giocatori under 21 che abbiamo visto a inizio gioco e adesso invece che pensiamo praticamente alla fine commentate ragazzi con la prossima nazionalità lasciate un mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanella e noi ci sentiamo al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti